A Trebbiano la tappa conclusiva della mostra itinerante dedicata ad Hélène de Beauvoir. Siamo proprio per entrare nel suo atelier dove tutto è iniziato. Una mostra per dar modo di riscoprire proprio la grandezza e l'importanza di questa artista. Una mostra, come detto, itinerante si è svolta in sette comuni e sono state oltre 21.000 le presenze. La mostra itinerante del parco è stata una scommessa, una scommessa vinta. E' stata veramente una grande soddisfazione. Una delle tante tappe importanti è stata la tappa di Luni dove i ragazzi, i bambini delle scuole hanno ridisegnato e hanno ricolorato Hélène de Beauvoir dando una loro interpretazione. Una cosa bellissima e entusiasmante. Ecco Presidente, un altro suo sogno è quello di fare in modo di far riscoprire la figura di Mario Soldati. Sì, io credo che sia una figura importante per il nostro territorio perché lui ha vissuto Tellaro, ha vissuto il parco, ha vissuto questi luoghi. Mario Soldati è stato un grande regista, un grande poeta, un grande scrittore, un grande attore, un grande uomo televisivo. È stato un grande uomo di cultura del Novecento, secondo me ancora poco compreso. Il mio sogno, è ancora un sogno, sarebbe quello di fare una grande retrospettiva per Mario Soldati. Un sogno che si è realizzato, quello di essere riusciti a far conoscere veramente una figura che conoscevano purtroppo ancora in pochi, quella di Hélène de Beauvoir. Sì, è vero perché io avevo questi quadri e per me era importante farli conoscere attraverso il nostro paese e i comuni. È stata veramente una cosa eccezionale perché hanno fatto quasi 22.000 persone che sono andate a vedere la mostra. E hanno scoperto chi era Hélène de Beauvoir, non solo Simone de Beauvoir, ma chi era anche la sorella. Ecco, tra i progetti futuri riguarderà una collaborazione con il Comune di Lerici per il quale lei farà anche un'opera. Almeno penso. Così mi hanno detto di sì, vediamo. Ci svela qualcosa? Sì, praticamente è una scultura in marmo di 3,30 metri che il titolo sarebbe il tulipano nero e poi si vedrà. Con il nostro Gabriele... Grazie mille...